Ancora perturbazioni per la Fly Hermes, nell'occhio del ciclone a causa dei numerosi reclami da parte dei passeggeri, una cinquantina secondo Conf Consumatori solo nel mese di dicembre. È proprio l'Associazione Nazionale dei Consumatori che, attraverso le voci del Presidente regionale Calì e della responsabile provinciale alla provincia di Ragusa, Nicosia, continua a gettare benzina su fuoco sul caso dedicato della compagnia Convettore Ibleo, ricordando ai passeggeri che l'utenza è regolata ed assicurata da norme specifiche presenti nel regolamento comunitario, nella possibilità che si verifichino ritardi e cancellazioni. Calì ha voluto ricordare che in caso di disservizi è un onere della compagnia provvedere all'assistenza gratuita ed adeguata ai tempi di attesa per ogni passeggero. Dal canto suo, la Fly Hermes non intende rispondere a Conf Consumatori, bensì la compagnia aerea ha rilanciato con i propri progetti per l'aeroporto Piola Torre di Comiso, base strategica per il nuovo piano 2015. In attesa di capire quale sarà il proseguo di questa storia, Conf Consumatori annuncia che si stanno predisponendo i reclami per i rimborsi, che dovranno avvenire entro sei settimane.